La Forest Oil di Denver torna alla carica per l'impianto di estrazione e trattamento di gas naturale nel giocimento Colle Santo del Comune di Bomba. Eppure lo scorso 10 aprile il Comitato Regionale per la Via aveva espresso parere non favorevole, bocciando il progetto con motivazioni forti e inappellabili. Ora però l'istanza Forest sarà ridiscussa nuovamente il prossimo 3 luglio. Come mai, si domandano gli ambientalisti? Se questo ulteriore appuntamento serve per fortificare documentalmente la bocciatura, quindi un'azione in autotutela, noi siamo col Comitato Via e quindi vogliamo che questo sia fatto per proteggere la Regione dal ricorso al TAR avanzato dalla Forest e soprattutto dalla minaccia di risarcimento danni di 142 milioni di euro. Se invece le procedure molto fragili del Comitato possono essere oggetto di ricatto da parte di una società privata, questo non ci sta bene. Non è finita perché sempre il prossimo 3 luglio la Commissione Regionale della Via esaminerà altri due progetti, Santa Venere e Cipressi. Sono due istanze di permesso di ricerca che fanno capo alla società adriatica idrocarburi del gruppo Eni e che interessano una fascia molto ampia di territorio, 16 comuni appartenenti alle province di Pescara e Teramo. E quello che vogliono fare qui praticamente è di portarsi avanti con i loro iter, con le autorizzazioni cercando un po' di scavalcare tutto quello che invece sarebbe l'iter normale. Vogliono praticamente passare da quella che si chiama istanza di ricerca a permesso di ricerca. E questo è qualcosa di secondo me antidemocratico perché nel fare tutto ciò vogliono omettere una serie di passaggi, documentazioni eccetera, quindi togliendo la possibilità ai cittadini di sapere meglio cosa intendono fare e di potersi eventualmente opporre. L'appello è dunque alla Regione perché si esponga e dica no a trivellazioni e a queste attività estrattive. Un anno e mezzo fa in un'intervista disse Gianni Chiodi che lui avrebbe contrastato ogni forma di trivellazioni in Abruzzo. Bene, il momento per fare questo è adesso. È adesso che lui deve dichiarare, deve dire qualche cosa su queste nuove istanze permesse di idrocarburi che vengono portate avanti sul nostro territorio.